Mi presento, sono Elezio Michelotti, dottore in tecnica ortopedica, titolare dell'omonima azienda Ortopedia Michelotti, un'azienda storica da circa 100 anni, fondata da mio bisnonno e nel corso degli anni ovviamente abbiamo sviluppato tutto quello che è un'implementazione tecnologica di servizi, di attività commerciale sempre più ovviamente elevato per dare un'offerta migliore in tutto quello che è questo comparto da noi sviluppato in tutta questa storicità. Copriamo un vastissimo territorio che va dalla Spezia a Firenze fino a Livorno e quindi da poco abbiamo questa nuova collaborazione con questa farmacia che ci sta dando ottimi risultati con un bacino d'utenza assolutamente interessante. Il servizio a cui l'utenza tiene molto la cura del corpo quindi non solo il fattore estetico di cui si parla in maniera se vogliamo leggera per la cura appunto sempre del nostro fisico ma anche quelle che sono le patologie che un tempo venivano considerate un po' minori che però adesso abbiamo capito quanto siano realmente importante essere curate. In questa direzione puoi raccontarci la sua esperienza? La mia esperienza passa per ormai 30 anni di attività e devo dire che nel tempo si è sviluppata sempre di più un'attenzione verso il benessere innegabile, questo lo possiamo vedere da ogni fonte che guardiamo, vediamo, dai Max Media è tutto. Quindi ovvio che oggi la prevenzione e l'attenzione sulla salute, visto che stiamo andando nella direzione di una società dove la quota proporzionale degli anziani sta aumentando per ovviamente il patrimonio della salute. Quindi oggi noi abbiamo un servizio elevatissimo sia di podologia che di ambulatorio posturale quindi per fare anche tutta una serie di indagini diciamo posturali che comportano ovviamente una visione molto più olistica da quello che invece è stato un po' l'aspetto, fra virgolette, dello spezzettamento della medicina specialistica che ha portato appunto, diciamo così, spezzettando il corpo umano, ha perso un po' di vista quello che era diciamo la visione olistica. Quindi in tantissimi casi abbiamo dei problemi, dei disturbi che vengono da altre direzioni e quindi oggi diciamo così l'attenzione olistica partendo appunto dagli appoggi dei piedi andando su su è quello che sicuramente sta dando dei risultati assolutamente importanti, cioè tutte quelle che sono oggi le connessioni neuromuscolari, scheletriche e tutto, non possiamo starne fuori e quindi questo oggi sta a livello mondiale dando dei risultati assolutamente importanti. Per questo, ripeto, siamo assolutamente alla vanguardia anche con tecnologie sviluppate per fare qualsiasi tipo di indagine, ripeto, da quello che è l'aspetto squisitamente podalico di arti inferiori fino alla visione completa con un esame posturale strumentale di elevata capacità e importanza. Due categorie, abbiamo toccato la parte forse più fragile che sono gli anziani, tocchiamo invece la parte appunto dell'inizio della vita. I ragazzini che problema hanno, i bambini e soprattutto anche un'altra categoria, gli sportivi. Quindi due domande in una. Beh, sfondo a una porta aperta nel senso che il bambino, ovvio, se si pensa a una medicina di prevenzione, è ovvio che tutte quelle patologie pediatriche, le più comuni, ne sono uscite due, così tutti le comprendono, che va dal piede piatto o dalla scoliose, sono tutte e due le macro categorie, diciamo, di patologie che da un bel po' di tempo vengono comunque sia seguite con attenzione. È un'ovvietà dire che se noi riusciamo in qualche maniera a correggere o comunque sia preventivamente fare un qualcosa per loro, è ovvio che avremo degli adulti che quantomeno avranno un po' meno problemi. Per quanto concerne gli sportivi è un nostro particolare profilo quello di avere a che fare con sportivi di alto livello, siamo peraltro sponsor tecnico in policalcio, di varie scuole di calcio, di sport. Da noi abbiamo in azienda, nella sede centrale di Lucca, abbiamo un grande centro podologico con una gate analysis specifica per lo sportivo con tapirulan per analisi baropodometriche, cicloergometri per il ciclista, un'area completamente dedicata con pista in tartan per fare questo tipo di attività, quindi dall'esame baropodometrica a tutta la gate analysis e sappiamo benissimo che la performance sportiva passa ovviamente per riuscire a creare più possibile l'armonizzazione del gesto, questo comprende ovviamente un dispendio energetico minore, quindi se noi riusciamo ad ottimizzare uno sportivo è ovvio che la prestazione sarà migliore o se quantomeno non sarà migliore sicuramente avrà un risparmio energetico ed è oggi una cosa molto importante.